Buonasera Pippo, siamo qui al premio Simpatia del Campidoglio di Roma e tu che hai raggiunto forse l'apice del successo negli ultimi 50 anni in Italia, io credo che molto si deve alla tua simpatia. La simpatia non è quantificabile, non è percettibile, non è qualcosa che si può toccare, è una specie di flusso mediatico strano che passa dagli occhi di una persona, dalla bocca di una persona, agli occhi alla bocca degli altri. La simpatia è un bene preziosissimo che non si può comprare, non si deve avere in natura, però quando si è antipatici bisogna fare tutto il possibile per dimenticare questa antipatia e di conquistarsi zone di simpatia, l'empatia che è il rapporto che collega un soggetto con l'altro è la chiave del successo della vita. Tu sei un maestro in questo? Ma io ce l'ho messa tutta, io mi muovo, reagisco e parlo così come mi sento, se sono simpatico bene. Forse perché sei della Sicilia, i siciliani sono simpatici o no? Ma non tutti siciliani, abbiamo avuto siciliani odiosissimi, antipaticissimi e da disprezzare, abbiamo avuto però degli altri che sono eccezionali. Ti ringraziamo, grazie, buonasera.